La multinazionale olandese TNT si prepara a lasciare a casa 854 dipendenti in tutta Italia. Oggi davanti ai cancelli del centro di smistamento di Peschiera Borromeo è andata in scena la protesta dei lavoratori. Un'azienda sana che produceva utili fino a poco tempo fa, spiegano i dipendenti. Poi l'incubo dei rapporti con l'Andrangheta, emersi dal filone d'inchiesta che ha portato in carcere 35 persone legate al clan dei Flachi. L'azienda è stata spinta nel baratro. TNT aveva dato in subappalto a consorzi e cooperative di trasporto legate all'Andrangheta i servizi di recapito di plichi. 22 milioni di euro il passivo nei primi sei mesi del 2013 dopo il commissariamento. Abbiamo cambiato cinque amministratori delegati negli ultimi cinque anni, cioè cacciati, non cambiati ma cacciati e chiaramente con il problema dell'Andrangheta che abbiamo avuto dall'indagine della dottoressa Boccassini e l'ultima cosa dall'inserimento degli autonomi nelle nostre cooperative. Sono 150 i lavoratori che rischiano di rimanere a casa in Lombardia. I sindacati chiedono un piano di investimenti perché le commesse non mancano. Quello che è più drammatico è che ci sono delle interi filiali tipo Pavia, tipo Megna e Sondrio che vengono chiuse e non c'è nessuna possibilità di ricollocare. Non mi sembra giusto oggettivamente che debbano pagare 854 lavoratori e lavoratrici che hanno a. dato il massimo, b. hanno dimostrato una grandissima professionalità, c. hanno dimostrato anche vero attaccamento all'azienda e a questo punto non potevamo, non possiamo non andare fino in fondo.